L'Italia crede molto nello strumento dell'ITS, ne abbiamo enormemente bisogno. Noi abbiamo avviato questo processo di cambiamento all'interno dell'azienda, nei sistemi di gestione, di raccolta, il passaggio al digitale, insomma tutta una serie di attività che hanno la necessità di avere personale preparato, in grado di saper gestire questo enorme cambiamento. Quindi avere la possibilità di formare direttamente attraverso la partecipazione dei nostri tecnici, dei nostri manager alla formazione delle persone è per noi naturalmente occasione enorme perché permette di avere poi figure che si inseriscono perfettamente in quello che è la nostra necessità di professionalità per far crescere l'azienda e dare un servizio sempre migliore e più adeguato ai cittadini, il passaggio che stiamo pensando alla tariffa orispettiva, gli impianti eccetera, hanno bisogno di figure che possano entrare nel modo più veloce possibile nel nostro sistema e che siano in grado di gestire i nostri processi. Quindi noi lavoreremo per una crescita ulteriore dell'ITS e per poter offrire anche nuovi corsi, seguiamo direttamente la struttura anche attraverso la dottoressa Francesca Vignolini che è nel consiglio di amministrazione di Alien e nel consiglio dell'ITS e mettiamo a disposizione tutte le nostre figure per svolgere la formazione all'interno dei corsi. Sì, è un progetto molto importante, siamo contenti che la nostra azienda della gestione dei rifiuti Alia abbia scommesso sull'alta formazione, sul sistema e il modello degli ITS e abbiamo un'opportunità che dobbiamo cogliere che deriva anche dalle esigenze di trasformazione del nostro territorio. Ci sono giovani bravi e preparati che vogliono scommettere sulla loro professionalità, c'è un sistema dell'economia che deve essere orientato verso l'economia circolare, Alia sta lavorando su questo e c'è l'esigenza di rendere le città più innovative, più moderne e più tecnologiche. Tutti questi progetti stanno insieme nella scommessa che l'ITS stanno facendo sulla formazione, sull'alta formazione per i giovani che entrano nel mondo del lavoro e quindi noi siamo qui per dire che Firenze è città dell'alta formazione scommette su questi progetti e sostiene questo percorso. È un progetto che mette al centro le imprese e i giovani per la formazione, nell'inserimento occupazionale dei giovani e la risposta alle imprese di competenze tecniche e tecnologiche altamente qualificate in un ambito importantissimo, ormai centrale, che è quello energetico ed ambientale. Con questo obiettivo proponiamo percorsi di due anni riconosciuti dal Ministero e sul territorio uno specifico percorso declinato sulle soluzioni energetiche e ambientali per rendere le città intelligenti. Infatti si chiama Tecnico Superiore delle Smart City. È un percorso aperto a 25 giovani che prenderà avvio nel prossimo anno accademico, quindi nel prossimo ottobre, che ha una durata di due anni con una didattica e una formazione prettamente applicativa, tecnica e quindi sono giovani pronti all'uso e subito da inserire nelle aziende.